Per il Rotary Club Sansepolcro la consegna dei riconoscimenti legati ai migliori laureati nel corso dell'anno 2022 è sempre un momento importante. I premiati sono stati Leonardo Allegrini, laureato in Ingegneria Gestionale, Giulia Teresa Milani, laureata in Biologia della Nutrizione, e Giulia Panicucci, laureata in Lettere e Filologia Moderna. Sentiamo la Presidente del Rotary Sansepolcro, Paola Vannini. Quest'anno peraltro sono tre ragazze di Sansepolcro, quindi benvenga qui nella sala del nostro Consiglio Comunale questo premio che è veramente un riconoscimento del merito dei grandi nostri laureati che poi purtroppo spesso vanno via, ma che comunque rimangono legati al nostro territorio anche per questo premio, che è un premio che è stato indetto subito dopo la morte del socio fondatore Donatello Andreini. Questi premi di laurea vengono dati per tre settori differenti di studio. A onor del vero abbiamo avuto sempre tanta soddisfazione nel dare questi premi perché poi abbiamo visto grandi carriere anche dei nostri giovani che spesso sono tornati a trovarci, ricordando questa giornata come una giornata importante nel loro percorso non solo di studio ma anche successivamente professionale. Speriamo che non dimentichino mai il loro luogo di origine, il posto dove sono nati, cresciuti e dove comunque hanno trovato anche un riconoscimento adeguato.